da sei mani da sei mani da sei mani quanti anni hai? nove nove, la canzone che ci canti? Urlo e non mi senti chi è che canta queste canzoni? Alessandra Brusso quindi, la prima famiglia che ci canta Urlo e non mi senti? canta come ti chiami? Silvia Silvia un applauso Tornerò, tornerò meno fragile Lesterò alla finestra, mentre un altro giunto passa in fretta E non resta lì, pure in silenzio giudicato Ora che non avrei più paura di... Ora è così, qui ne stai lontano dai miei fatti Tanto che riposo io convinto a chiedermi Perché pure voi non mi senti lì Oggi poi mi giochi tra gente E non mi senti lontano dai miei fatti 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 Tanto che riposo io continuo a chiedermi Perché pure voi non mi senti lì E non mi senti lontano dai miei fatti 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 Grazie a tutti